Sì, sono nella 45 Che dici, Lux? No, no, se potremmo andare giù tranquillo, sarebbe ricoloso In teoria le mine stanno dove ci sono i segnali Oh, c'è la mina qua, eh! Ok, ho piazzato le mine Riegel, ho gioco che ho messo le due mine, eh! Ho visto che hai spostato il marker del ponte, ma è già piazzata quella No, quella del ponte ho ancora una è piazzata, aspettiamo la piazzola quando ce ne andiamo via da qua Ok, mi inizio a metterle là No, eh! Ok Mi posso dare i comandi, eh! Un'altra che è già tastata da lì C'è la piazzola? Ok, occhio ad andare a destra Raga, ho c'ho le mine Ma te stanno le casse? Le casse sono là vicino a... Io non senti i suoni del gioco, comunque Vabbè Dimmi Io non sento i suoni del gioco per nessun motivo al mondo Cosa intendi con i suoni del gioco? Non si sente niente Non sento nessun tipo di rumore Il fuoco lo senti? Che frigge? Sì sì, lo sento Ok, vedi quando sono tutti di isolotto? Non sento niente Sto passando ma non vedo un cazzo Cosa metti qua? Metti la satchel? Ah, io stavo pensando a quella pressione Ah, ok Ok, allora L'ultimo che cobra mette la restante mina E noi ci possiamo muovere Eh, vabbè, però ascolto io non ho più l'audio del gioco, zero Fai un re-log Eh, verifica un attimino Dove la vuoi Emma, precisamente? Allora aspetta Va bene qui in fondo dove sto? Sì, piazzerà al lato però, no al centro Dove pensi che potrebbero passare? Piazzo qua Oh, avverti righe degli altri Che quelli sono ancora al capanno a prendere le cose No, no, sono usciti, sono usciti Sono andati in pattugliamento Eh, mi sa che devo fare re-log però Faccio in tempo Va bene dai Però cerca di passare al guard-lay Sono benché la mina Passa, passa sulla destra dove c'è il guard-lay Sì Ok, brava Vai in posizione Io intanto con l'ox E con... T'ho prelevato poi anch'io in posizione Sì, aspetta Eh, ho lì Deve ancora loggare Sì No, no, già sto qua io Ok, arrivo Eh, vabbè, ma Psycho sta ancora in barracks Perché ha crashato Eh, mi sa che non riesce a entrare perché ho visto con la riga in caldo Vabbè, un peso pure te Ho precisato il più possibile i marker delle mie mine Sì, poi non so che altro Dove posso mettere una bella Sacher? Una bella Sacher maledetta Io la metto qua, su questo cartello qua A caso Mi senti Obe? Sì Sì Eh, tappa, ricoprite i marker dove segnate il mappa poi Con le vostre posizioni dentro a... Io sono ad aviazione, giusto Sì Io sto al primo marker vicino all'obiettivo Sì, sì, sono qua Mi senti, sì? Sì, sì, vai al secondo marker Eh, metto una Sacher sotto la cisterna Eh, ci sto io, eh C'è a 45 Questo è chiaro Occhio dove passi, eh? Eh, beh, sono spawnato non su ponte Ah, ok, meglio Allora vieni nella cittadina Perché non ho il GPS Allora prendere nella cassa dopo il ponte Basta che entrando stai a destra e uscendo stai a sinistra Sì No, sempre... sì, ok, giusto Cioè entrando devo stare dalla parte destra del ponte Sì, hai il guardrail Sì, hai il guardrail Allora vedo una macchina arrivata, è nostra? Se è una Jeep, dovrebbe essere nostra Jeep comune Sta passando qua di fianco a me Eh, comune? Cioè, dell'isola? Guarda e della polizia? Ah, no, scusa, scusa La Jeep è passata lontano E di fianco a me c'è un condizionatore dell'aria Ah, io sono andato all'ultimo marker Ok Vabbè, ma noi ci passiamo o ci muoviamo? Potete muovervi se volete Allora facciamo avanti e indietro su Astra Eh, vado dietro una strada così siete visibili Eh, mo passiamo, allora passiamo sotto e ritorniamo su Ok Ok, eh, ma io lì stiamo togliando la strada passando per il bosco Quindi stiamo insolato Ok Ok, io sono nella casa del marker Ok Dove mi trovo? Nei marker dove sta la cittadina Io sono nel primo marker vicino a Cister Ti metto un cerchietto adesso dove devi andare tu Ok Ok Hai visto? Sì, sì, caro Vabbè, è partita la musica da noi Eh sì, 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 stanno passando un incrocio appena sono partita dal basso È tutta pulita qua la strada si passa senza mine, no? Sì, non ci sono mine Vabbè, un'altra cosa, ti ricordo di mettere la cartella del suono degli effetti speciali Perché non ci stanno i due cartilici? Eh sì, il suono, pure l'altra volta Eh sì Mi credo di mettere non gridare Ok sono tutte finte le porte eh devi trovare quella giusta il crociato 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 ma anche loro sono senza visori senza niente il crociato 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 Sto cadendo d'osso Come si fa a trasmettere sulla frequenza aggiuntiva sullo stradio piccolo? Mi sono dimenticato Con la T Mi mette quella aggiuntiva e poi premi in T C'era quella aggiuntiva questa, non so se per quando Sì, sì, ce l'ho Ah, con T, con T Contigo Contigo Ok, sono tornato Ok, raggiungi gli altri e ogni passaggio fai un check, ok? Comunque l'atmosfera è troppo Silent Hill, cazzo Sì, eh Vado almeno ha smesso di viove Vado almeno ha smesso di viove Grazie a tutti. Ehm, sto piazzando delle cariche da demolizione nella strada qui sotto di noi, nel caso passino i nemici, li faccio scoppiare i veicoli. Ok. Cambio casa, vado in quella di fronte perché qua non riesco a vedere dietro quella casa lì. Vabbè. Figlia da cagliarsi addosso, stavolta. Vabbè. Guarda, check. Check, Aldirst. Check, Tappanello. Grazie. Check, Orly e Covre. Sono stati ingaggiati. Sono stati ingaggiati gli altri. Jack Rigel siamo nel marker più assurdo Siete stati ingaggiati? No, negativo Non so sono stati ingaggiati, perché dici che sono stati ingaggiati? Perché ascolto noi sulla destra e loro sulla sinistra A me ha detto Rigel che non sono stati ingaggiati Capito? Sì 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 A te sto sentendo cosa dico Dove abbiamo la cibi? Dove partono i fuochi? Sono i nostri Ripeti Ho visto il movimento dove abbiamo la cibi dove partono i fuochi? Sono i nostri Dovrebbero essere loro sì Raggia questa è la Marche dove partono i fuochi artificiale dove c'è la cibi? Sì due di noi sono là Ok perfetto Sì sono loro Ma le piante che passano ogni tanto mi fanno prendere quei spaventi cazzo Vabbè siamo i fuochi stiamo scendendo Cazzo è la marca nord est Mi dicevuto Porco diazze che cagazzo Ma piante di merda Cazzo mi son cagato addosso Ho aumentato una pianta in casa porco di azz il figlio mi son pregato ad osso porco di azz si, si, qua non c'è niente comincia ad essere giorno e praticamente qua si è in caos ok sempre fuochi d'artificio sono i nostri confermati che siete fuochi d'artificio in zona si, stiamo da quelle parti con due persone dove ci sono i fuochi d'artificio sono alleati ok, ricevuto non si vede niente ok, ovvi siamo al marker più a sud che c'è ricevuto quello più ricevuto, quello più in alto si si ok vedete ancora le nostre jeep in movimento ok 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 tutto e ok 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 Tappa, tu vedi ancora le nostre jeep che scendono? Le sentivo prima, ma adesso non le sento più Poi sono state ingaggiate Esplosione? Esplosione? Non sparavano noi, magari è stato un tuono Sembra più un'esplosione Oddio, da parte vostra avete sentito un'esplosione? No, negativo Sto andando tutti a controllare Ok, non vorrei che stanno per entrare vicino alla nostra base Però le isole e le cisterne non sono allarmate L'esplosione era diretta a voi oppure era sparsa da qualche parte? Eh, una si è inginocchiata però Sì, punta in direzione nostra della spiaggia Spari, spari In direzione 50 gradi da me, sembrerebbe Ok, hanno abbattuto una isola cisterna anche la Hanno abbattuto tutte e due lei, quindi stanno sopra i monti credo Ah, entrambe le isole cisterna morte Sì, credo che abbiamo sparato sui monti Da sud E da qua giù non c'è idea niente Ma è vero, sui monti direzione da me 150 gradi Allora, direzione 200 gradi Direzione 200 gradi Direzione 200 gradi Ok, ci spostiamo, quindi ci avviciniamo Direzione 200 gradi, ok Marker nemici Potrebbe essere ancora un'azione diversiva Sì, infatti spara una manetta Potrebbe essere un'azione diversiva È saltata una bomba, ho sentito Soltata una bomba Soltata una bomba Copra, le mine ci sono ancora? C'è il fumo dove c'è il camioncino? Eh, noi non la vediamo Vogliamo fare una prova a tornare indietro da qua Io posso andare a vedere Sì, dalla spiaggia Dalla spiaggia Dalla spiaggia Sì, vado io Passiamo dalla spiaggia Sono G, sono G Dove sto io? Perizzer Attualmente Chi civiliani Ovvero Sono G, sono G, ho scindato Ma, fuori Fuori Sai gap Ô attitude Ma, u perere Sì, occhi In emocionale La mia posizione La mia posizione Sono vicina È mia posizione Li vedo, li vedo da qua. Sono all'angolo. Aspetta che ho detto il marchio. Sono tornato. All'angolo della schiaggia. Sted, dove stai? Al destra hai il guardrail. Vabbè, sono tornato adesso. Passano dalla schiaggia, dalla schiaggia. Ho messo il marchio in mappa. Se non siete voi, sono loro. Sono loro, sono loro. Obby, come facciamo? Segnate il mappa ai miei marchi, i nemici. Ok, sono arrivato adesso al marker nemici, quindi bisogna convergere lì o stiamo dove siamo noi. Ok, si, sputtateli prima e andiamo. Obby, dove stai? Sono le rocce, Obby. Vieni, ti aspetto, appena arrivi il muretto della mia Eraston. Stanno entrando, stanno entrando dalla... dove ho messo la mina? Entra dove? Entra dove hanno messo le mine. Ok, Ollie, ti vedo. Vai, vai, vai. Mi sto ingaggiando. Mi sto ingaggiando. E' uno davanti. Cazzo, segalo! Ok, potrei essere io eh. Io sono un contractor. Ah, ok, la maglietta nera. Cappello bianco, maglietta nera, siete? Si, si, si. Ok, arrivo. Sono dietro di te, Obby. Ok, sono con te, Obby. Ok. Raga, sono qua, sono qua, bisogno di un'aiuto. C'ho la D se vuoi, Obby. Spera di occhiare non colpire da me. Dov'è che sono loro? All'angolo, dove ho messo la mina? All'angolo. Spera di occhiare non sparo perché no, non so se hai tappo almeno. E' morto dapparello. Giù! Ollie, coprimi. Sono diretto sulla destra. Mani basso, sparo a mezzare fra. Va bene, va bene. Ascolta, sopra, sopra il compound. Ce n'è qualcuno dei nostri, ma sono tutti nemici. No, ci stiamo noi, Jacob. Ma sono tutti morti. Sto vicino a dapparello. Grande! Mi sono praticamente giocato il cartello. Ho fatto un altro down. Omogeneo rosso, contatti down. Sì, comunque il piano è in casa del cartello. Non penso si stiano rialzando. Ok, penso ci sia una piccola squadra. C'è Furious da qualche parte. Penso che... Scusa, chi sta a rianimare? Chi sta a rianimare? Questo è il nemico? Oh, ha ricoglionito. Scusa, no. Scusa, no. Abbiamo re-placed down. Adappate tu. Avanti, Lux. Ripeti. Ho visto uno vestito di verde, però mi sa che siamo noi. Sì, di verde siamo noi. Backer Manchex, un 45. C'è forte chiare. Vedo uno di quei che ci guarda. Eh, siamo tra le piante. Sì, 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 sì. Ok. Flux, può darmi i gradi circa della squadra di Reggio? Hanno preso una mina qua? No, no. Non lo so. Gli hanno sparato, gli hanno preso una mina. Sì, sì, ha preso una mina, ha preso una mina. Allora, aspettate, in direzione è ovest dalla tua posizione. C'era di... Ovest e sud-ovest, diciamo. C'era una posizione. Sì, emanette. Aspetta che lo bendo. Eh, prima lo bendiamo. No, prima metti le manette, poi lo bendiamo. Va bene. Ragazzi, copertura che sta ancora una squadra in giro, va? Dai, li metto in copertura. Ho aggiornato il mio marker. Quindi vuol dire che l'hanno centrata. Ok, ho lì. Oh, non spregare le pende per lui. C'è Blaze e il re che stanno giù. Eh, ma sono... Sono irrecuperabili, credo, perché sono stati uccisi all'interno di un bosco e non sappiamo da dove prendere i colpi, quindi è molto difficile recuperarle. Ok. Chi è che ha tirato questa... Ah, hanno preso l'altra mina, hanno preso l'altra mina. Eh, ha preso Cobra, ha preso... Ha preso Cobra. Che cazzo, ma quella era entrata su lei? Ma Cobra non è dei nostri. Sì, sì. Adesso lo metto a posto io. Che l'altro medico oltre a me? Io, io, io. Vuol dire lo spazio qua? Minchia che legno è preso. No, 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 no. Ragazzi, non vi distraide che c'è ancora una squadra in giro. Braccio sinistro. Braccio destro. C'è le gambe. Ho interpretato male il marker. Aspetta che li tolgo, ma sti cazzo di marker. Che legna. Questa è da comica, comunque. Uh, 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 qua sopra, qua sopra. Opa, ti devo su, ma ti faccio un'altra mordina. Fermate, fermate, fermate. Eh, Lux, sei tu con lo zaino gigante che spari? Ragazzi, siete voi in mezzo al bosco che correte? Verso sud, eh? Eh, che cazzo? Sì, quelli sono le agi. Eh sì, però se no non rispondono figa, io gli sparo. Ah, comunque, non dovrei marcherti questa mira? L'ho tolti, l'ho tolti tutti e due adesso. Ah, ecco perché. No, 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 c'era prima. C'era prima. Porta chiaro. 1, 2, 0. Regil, 1, 2, 0 da te. Ce n'è uno. L'ho preso, ma non so se è giù o no. Sopra la collina? No, era praticamente al bordo limitato della strada. Dove la strada gira a sinistra. Guardandolo da noi, a 1, 2, 0. Dove c'è l'incrocio praticamente. Ok, eh, sono sopra quasi. Sto coprendo la strada io adesso. Quindi ragazzi, sono veramente vicini. Sì, ovviamente il ponte del porto. Era davanti al ponte del porto. Sei dove andato? Eh, non lo so. Anche l'entrata. Sì, io sono sul ponte dell'entrata. Ok. I miei vivi sono io dall'altra parte della strada. Sì, ci vedo. Era da questo dall'altra parte della strada? Era fra me e te praticamente. Ah, la tua a sinistra, la tua a destra? Ah, la mia a destra. Pingate Furious perché se sono morti tutti facciamo il ritorno. Andiamo noi in attacco. Sì, non lo so. 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 Sai come abboccato è finito. Ok, digli di fare... Ehm, il ritorno. Dividi a render. Ma non vedo il cadavere, Beck. Ragazzi, è passato una... 300... A 300 siete voi? Io sono sulla strada. Sì, sì, era il... Eh no, era il... Sto cercando quello che ha ucciso Beck. Ma non lo trovo. Ah no, aspetta, aspetta. È passato uno con il cappellino. È passato uno con il cappellino qua. Dov'era mia? Ragazzi, al 300... Passa sulla destra. Sì, non lo so. E poi, dietro la garda. C'è il sangue qua. Ma io non lo vedo. Che spavento, porca capitana. Ti sto per sparare, Obe. C'è pure il sangue qui, ma lui non c'è. Si vede che lui è andato verso la nostra base. Ehm, no, si è sconnesso. Ma era Furious, mi sa. Ah. C'era fra il marker, Beck, Rigel e il ponte. Era proprio vicinissimo. Corro di se vogliono fare il ritorno. Mi fate esplodere un attimo il camion? Chi è che c'è ancora uno sacco? Lo vediamo un attimo. Io? Proprio non può fare esplodere il camion. Sta il camion. Dentro l'hangar. Non è che mi avete messo una mina per trollarmi, no? No, 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 no. Lamento pure io la bomba. Che comunque non avete detto di che bordello gli abbiamo fatto a quelli che abbiamo trovato noi per strada. In pratica place abbiamo trovato. Oh via via via, scappate. E hanno fucilato. Cinque, quattro, tre, due, uno. No, no, no.